Peter! Tutti armati? Che succede qui dentro? Quell'ufficio potrebbe contenere qualcosa che colleghi lì a tutto questo Devo tornare indietro Eh? Cos'è stato? Chi è l'idiota che ha lasciato la sua roba in giro? Eh, mi scommetto Stavo sparando a un top Quindi il capo prende soldi da Martin Li Il capo vuole desti due parole, vieni qui Esatto, noi costruiamo questo busto Martin Li finanzia le imprese del capo Dov'è finita? Credevo di averla posata qui Ehi, qualcuno ha visto una bussola da 316? Diciamo noi, Anna Dove arriva questo segretto? Che cos'è? Qualche tipo di attrezza... L'ufficio deve essere a destra Devo muovermi con molta prudenza Lino la noterà Tu non sto Hai ragione Rick Non la noterà Perché sarà sparita Ho detto Ho detto che l'ha giusto Hai fegato Rick Ma vediamo quanto Che delusione E ora mi serve un saldatore Non posso mollare ora Devo entrare in quell'ufficio Perfetta Progetti Un APC Stanno costruendo questo bestione per lì Ma a che gli serve un veicolo corazzato? Guarda qui Rilevatori GPS Come intende usarli tu, Houston? D'accordo, gente Ci muoviamo Prendete l'attrezzatura in ufficio Devo andare Ok, vorrei dirti di non farlo più Ma sapendo che non mi darai comunque retta Tieni Portane qualcuno con te Forte Grazie Sai che Tombstone è matto e quasi invincibile, vero? Tutti hanno un punto debole Il mio Vole in pentola proprio ora Che profumino Pollo al curry Tra poco lo servo Non nei fagottini Non ti stancherai mai di prendermi in giro? No La tragedia dei fagottini Fecero addirittura evacuare l'intero edificio In gennaio, oltretutto I vicini volevano uccidermi Già Ok Raccontami cosa hai trovato nell'ufficio di lì Beh Sembra che lì ce l'abbia morte con Norman Osborn Sì, ma Perché? Non ne ho idea Ma a quanto pare la sua prossima mossa coinvolge il respiro del diavolo Qualunque cosa sia Già Vorrà dire che indagherò Sai, pensavo E se noi formassimo un team? Aspetta Vuoi essere la mia spalla? Una cosa tipo spider girl? Spider woman? No Meglio? Non una spalla Una partner Oh Non di nuovo Ehi, è il tuo sistema anticrimine Pare sia un effrazione Charles Standish Suona familiare Oh È il CFO dell'Oscorp Aspetta Non penserai che abbia a che fare con lì, vero? Scusa, il quattro fuggi Hai Hai lasciato i vestiti per terra in cucina Dove vuoi che io... Beh, qui va bene Lascia A dopo Sì Sì